poi col pesce e col sushi la è una cosa una cosa spettacolare ok perfetto ascolta l'acqua sta già bollendo l'acqua sta bollendo tra un po' iniziamo a aprire le prime vongole e niente il brian jones lives in northeast london and jackam antonio lives in southwest Come boys and girls from all corners of the Capital they know about spaghetti It's something that helps them grow Most days Ann and Brian take their time going to dinner but today is Wednesday In the heart of London Wednesday is spaghetti Se volete un pollo di spaghettino in Londra, vedi un pollo come questo, un 1950's british cap. Si fanno 100 supply-ups ogni giorno. Per spaghettino, si fanno in una pota di pot e si fanno in un pollo. Se si fanno in un pollo, si fanno in un pollo, si fanno in un pollo. Si fanno in un pollo, si fanno in un pollo, si fanno in un pollo, Francesco Monti di Londra, uno dei grandi italiani chef di Londra. Spaghettino Monti è a dieci per, ma questo è un pollo dove puoi divertire. Come to twirl, you can twirl! Can we see some twirling? You can swurf. www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info